disinnesco bomba in tre ore tutti rientrati a casa riparte il dipartimento materno infantile di pesaro bio laboratorio alla torraccia i residenti dicono no dal 6 dicembre aspettando il natale con roberta vl ko a trento la vis riparte da oscar brevi buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di rossini news telegiornale di oggi lunedì 5 dicembre che apriamo con le immagini del disinnesco e brillamento della bomba della seconda guerra mondiale che hanno caratterizzato ieri la domenica mattina di pesaro attenzione al fuoco 3 2 1 per santa barbara fuoco nel 4 dicembre giorno di santa barbara protettrice degli artificieri nonché dei vigili del fuoco è stata fatta brillare la bomba d'aereo della seconda guerra mondiale ritrovata in strada a montefeltro il 18 ottobre scorso un ordigno di oltre 450 chili metà dei quali di tritolo che è stato fatto detonare a mezzogiorno un quarto dagli artificieri del genio ferrovieri di castel maggiore di bologna nell'isolata ex cava della pica in strada stroppato a case bruciate dintorni era stata prevista un'evacuazione per sette ore per i circa 900 residenti chiamati fuori di casa dalle 8 alle 15 invece l'operazione si è svolta in tempi rapidissimi fra le 9 e le 9 50 si è completata la bonifica il disinnesco e la rimozione dal luogo del ritrovamento con le famiglie che sono potute rincasare già poco dopo le 10 stesso orario in cui è stato riaperto il casello autostradale di pesaro e la circolazione sulla 14 nel tratto preventivamente chiuso fra fano e cattolica l'operazione è particolarmente compressa rientra in un'attività che svolge l'esercito italiano di bonifica occasionata al territorio di cui noi siamo uno dei reggimenti che opera sul territorio questo è uno degli ordini più grossi del centro d'italia che insomma che furono lanciati durante il conflitto della seconda guerra mondiale e la comprensione è dovuta dalle dimensioni e dal sistema di innesco dell'ortigno stesso non solo esercito la bonifica che ha portato all'evacuazione di un'area strategica sia a livello residenziale che di viabilità è stata coordinata dalla macchina operativa apparecchiata dalla prefettura di pesaro urbino ben prima dell'alba innanzitutto la prefettura ha costituito il centro di coordinamento soccorsi presso la sala operativa integrata della regione marche dove confluiscono tutti i soggetti interessati dalle operazioni di bonifica in particolare il oltre logicamente alle forze di polizia e al reggimento genio i vigi del fuoco la polizia stradale 118 la croce rossa tutti i soggetti chiaramente fanno parte di un unicum per una direzione unitaria delle operazioni dal punto di vista dell'impiego di uomini circa sono circa 100 unità distribuite tra forze di polizia polizia locale esercito e volontariato in particolar modo il volontariato ha diciamo una particolare rilevanza anche dal punto di vista del supporto a tutti i cittadini cercando di alleviare i disagi per quanto riguarda le operazioni di evacuazione per quanto riguarda chiaramente poi il rientro nelle proprie abitazioni un'operazione parsa eccezionale per pesaro che invece tutt'altro che infrequente nel centro italia in realtà nella provincia di pesaro abbiamo già disinnescato durante quest'anno circa 36 ordigni e dal 2007 360 ordigni quindi un'attività che facciamo quotidianamente ma che oggi ha particolare rilevanza in quanto creiamo un disagio per la popolazione locale disagi per la popolazione di fatto piuttosto limitati l'evacuazione si è svolta con ordine senza mugugni e nei tempi prestabiliti la maggior parte degli evacuati ha trovato sistemazioni fuori dal quartiere una manciata di persone ha sfruttato il centro d'accoglienza adibito per l'occasione all'interno della vitri frigo arena non ci sono ancora partorienti ma da oggi è tornato ufficialmente operativo il dipartimento materno infantile dell'ospedale di pesaro chiuso dal marzo 2020 quando l'intero nosocomio san salvatore fu trasformato in presidio covid il consigliere regionale Nicola Baiocchi tra i più impegnati in questa riapertura due mesi fa aveva annunciato per oggi il ripristino del servizio e la data è stata rispettata nonostante le difficoltà nel riprendimento medici la regione Marche riapre il presidio grazie al supporto sanitario di una cooperativa privata oltre al punto nascita si riattivano anche ginecologia ostetricia e pronto soccorso pediatrico diversi residenti pesaresi della zona di torraccia questa mattina si sono mobilitati per dire no al biolaboratorio sperimentale che dovrebbe resorgere in un'area verde dello stesso quartiere dopo l'approvazione del progetto in consiglio comunale gli abitanti pretendono trasparenza dall'amministrazione invocando un confronto un sit-in di preoccupazione ha riunito questa mattina poco più di una ventina di residenti del quartiere di torraccia dopo aver appreso nei giorni scorsi la notizia della delibera in consiglio comunale per la costruzione di un laboratorio sperimentale di biosicurezza bsl3 l'area selezionata è quella in via furiasse a fianco dell'autostrada della vitrifrego arena facendo subito drizzare le antenne ai cittadini della zona il timore è dovuto alla possibile pericolosità che potrebbe generare un impianto di questo tipo se paragonato al simile il laboratorio di vuan di sicurezza addirittura superiore di livello bsl4 sperimentazioni e manipolazioni che preoccupano anche per la realizzazione di stalle per gli allevamenti intensivi di grandi e piccoli animali in grado di garantire misure di contenimento nei confronti di agenti infettivi un laboratorio in una zona del genere rischia tantissimo se poi oltre al laboratorio c'è lo stallaggio mi viene da dire partendo magari da una considerazione prettamente di tutela animale praticamente potrebbero veramente esserci problemi grossi anche di morte di animali se dovesse esontare il fiume poi siamo un'area altamente sismica è un terreno soggetto a delle modifiche che siccome molti di questi laboratori hanno anche molto probabilmente ma quasi sicuramente delle cose sotterranee siamo preoccupati per il dissesto la mancanza di comunicazione da parte dell'amministrazione fa temere ancora di più ai cittadini che in fondo ci siano esclusivamente benefici economici e non ambientali noi abbiamo avuto questa notizia proprio ci è arrivata per puro caso crediamo veramente a un miracolo dal cielo perché se nessuno leggeva quell'articolo come purtroppo oggi c'è per anche per motivi di tempo si legge poco non ve ne venivamo a conoscenza ne siamo venuti a conoscenza e la prima cosa ci è venuto da dire ma è un quartiere altamente popolato anche se di nuova costruzione pieno di bambini il che già questo dovrebbe veramente preoccupare far rizzare i capelli e mi chiedo in coscienza io credo che chi ha sponsorizzato questo progetto abbia dei figli quindi io voglio sperare in un po di sensibilità da parte loro per cambiare un pochino le cose a sostenere il malcontento degli abitanti di torraccia riuniti questa mattina c'era anche la consigliera comunale del movimento 5 stelle lisetta sperindei che si espressi in maniera contraria appena prese il significato del testo letto in consiglio l'ho preso in consiglio comunale il testo di questa delibera e l'assessore puzzi ha spiegato ampiamente di che cosa si trattava cioè ha ripetuto quello che c'è scritto nella delibera che sarà un laboratorio sperimentale profilattico e quindi secondo me il richiamo a one si fa svolto a fare sarà di sicurezza 3 quindi di one 4 eppure il che vuol dire che era ancora più sicuro eppure è successo quello che è successo allora io sono contraria che si faccia e tanti cittadini si sono allarmati lo stesso perché l'idea di avere un laboratorio di queste estensioni di questo livello non dico in centro città ma insomma ci manca poco che se non sia il centro vicino al fiume foglia dove ci sono due casse di espansione una posizione veramente infelice e poi il terreno è tanto e cioè oltretutto è stato venduto ad un prezzo inferiore al valore per carità lo so che fra enti pubblici è una cosa fattibile si può fare proprio per legge però non è che sia obbligatorio no? La notizia casualmente l'ho acquisita io attraverso un video del dottor Joseph Tritto che parlando di biolaboratori ha praticamente reso pubblico che sarebbe stato aperto un biolaboratorio a Pesaro di questo genere è partita diciamo ha partito il mio allarme su una mega chat è stata raccolta da queste persone che hanno attivamente e velocemente lavorato su indagini Spiegazioni, trasparenza e confronto con il sindaco e con l'amministrazione comunale sono le richieste dei cittadini Se il percorso andasse avanti noi decideremo volta per volta cosa fare perché in ogni caso bisogna vedere come va avanti e di che cosa si tratterà fino in fondo noi chiederemo veramente di essere ricevuti dal sindaco per avere qualche delucidazione di più perché se anche il sindaco in questo frangente visto che adesso inizia ad essere una cosa che è finita sui giornali ci piacerebbe insomma che ci fosse data un minimo di udienza ma soprattutto ci venisse chiarito fino in fondo in base a quello noi andremo avanti secondo gli step ovviamente in modo civile perché siamo persone civili ma altamente preoccupate Ed ora andiamo a scoprire le attività dell'autoclub storico di Pesaro Dorino Serafini che in questo weekend ha inaugurato la sua nuova sede a Case Bruciate Abbiamo lavorato negli ultimi 4-5 mesi perché questi spazi di circa 100 metri ci sono stati forniti dal comune di Pesaro che ringraziamo naturalmente perché fino ad oggi la nostra sede era ubicata dal precedente presidente del nostro club però avevamo bisogno di allargarci avevamo bisogno soprattutto di esporre tutte queste cose molto interessanti di Dorino Serafini il nostro club è intitolato al campione pesarese Dorino Serafini un campione di moto e di auto che dal 31-32 è iniziato a correre con le moto prima con la Benelli poi con la MM di Bologna poi ha corso con la Bianchi con la MM di Bologna e con la Bianchi è diventato a suo tempo campione italiano poi è stato assunto dalla Gilera e correva nella classe 500 con la Gilera 4 cilindri col compressore e ha vinto il campionato d'Europa nel 39 quando ancora non c'era il campionato del mondo poi è scoppiata la guerra ma dopo la guerra Dorino Serafini ha iniziato a correre con le auto quindi ha corso con la Maserati, ha corso con la Oscar, ha corso con la Fredernash e ha corso con la Elei e poi è stato acquisito da Enzo Ferrari e il trio allora della Ferrari erano Serafini, Ascari e Villoresi e noi qui abbiamo tantissime cose, coppe che sono di proprietà degli eredi Serafini che però ce le hanno concesse e noi siamo praticamente chi espone queste cose e le conserva nel modo corretto abbiamo oltre alle coppe una serie di immagini fotografiche, abbiamo molti oggetti, molti memorabilia e quindi siamo contentissimi di poterli esporre in questa sede che ci consente di far vedere a Pesaro chi era questo campione pesarese Una biblioteca diffusa che valorizzi il patrimonio culturale della città e questo è il progetto portato avanti dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Pesaro Michele Radaelli e dall'ex sindaco nonché senatore Giorgio Tornati che andiamo ad approfondire in queste interviste Una proposta alla città, a tutti i pesaresi, giovani e adulti per costruire un nuovo modello di biblioteca che raccolga le storie dei cittadini e quelle del territorio attraverso le letture La biblioteca diffusa è un'idea improntata verso Pesaro, capitale della cultura 2024 lanciata dal consigliere comunale di Forza Italia Michele Radaelli assieme a Giorgio Tornati, ex sindaco di Pesaro e senatore della Repubblica Vorremmo provare a valorizzare i tanti patrimoni librari che poi sono la nostra storia che poi sono la nostra cultura, la cultura della nostra città raccogliendoli e mettendoli a disposizione di tutti Stiamo lavorando a delle progettualità che possano essere inclusive, che possano essere diffuse sul territorio che raccolgano i tanti patrimoni che sono magari rinchiusi negli scantinati o nelle case e non vengono valorizzati per poterli mettere insieme, metterli in comune e poter lavorare in sinergia con la città su progetti che possano guardare al futuro Questa è una tematica che parte da una proposta culturale ma che ha degli aspetti politici, che ha degli aspetti amministrativi e soprattutto degli aspetti di visione verso il futuro È un nostro contributo anche alla tematica di Pesaro, capitale della cultura e soprattutto è un modo per iniziare o per continuare un lavoro di dialogo sempre più fitto sempre più interessante con i cittadini e con la cittadinanza Una biblioteca diffusa che potrà avere sede dove? Appunto il tema della diffusione è il tema della valorizzazione di luoghi che ad oggi non sono ancora magari utilizzati quindi anche con delle collaborazioni con privati, anche valorizzando per esempio quello che è il sistema della rete delle biblioteche di quartiere ma anche insieme alle istituzioni principali della città, delle biblioteche come la San Giovanni, l'Oliveriana perché c'è un patrimonio importantissimo che in questo momento non è valorizzato e vorremmo valorizzarlo donandolo alla città Rendere il più possibile i quartieri autosufficienti è chiaro che nulla toglie al fatto che un cittadino di Pesaro sia interessato a Piazza del Popolo però se tu hai un quartiere con il centro civico, il centro commerciale il centro civico significa il delegato del sindaco che rilascia certificati c'hai il centro sanitario, c'hai la biblioteca che non è solo deposito di libri ma è anche un centro di iniziativa culturale perché i bibliotecari erano operatori culturali ecco, questa idea è un'idea che si è perduta a strada facendo adesso tutto avviene in Piazza del Popolo l'idea della biblioteca diffusa vuol dire innanzitutto che molte biblioteche personali sono beni culturali in tante biblioteche personali tu non trovi cioè trovi dei libri che non trovi né alla San Giovanni né all'Oliveriana tanto meno nelle altre biblioteche le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono a rotoli e frammenti di carta catramata abbandonati che sono stati rinvenuti questa mattina nel parcheggio del bar Ristorante QB in strada dei Cacciatori a Pesaro una quantità di materiale non grandissima ma che comunque non è stata smaltita nel modo corretto e che come sottolineato da Marche Multiservizi evidenzia l'inciviltà degli autori del gesto la carta catramata rientra infatti tra i rifiuti speciali e deve seguire un corretto iter di smaltimento in caso contrario il rischio è di essere accusati del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali ai passeggi di Fano sono state invece inaugurate questa mattina alla presenza del Sindaco Serie dell'Onorevole Carloni e dei rappresentanti territoriali del gruppo Enel le smart bands ovvero le panchine intelligenti con l'innovativa tecnologia di Enel X che metteranno a disposizione dei cittadini tanti servizi tecnologici grazie alle tre panchine sarà infatti possibile connettersi alla rete hotspot wifi e collegare smartphone, tablet e altri device alle porte USB presenti per ricaricare le batterie oltre alla connessione le panchine illuminate a led con orologio predefinito saranno dotate di rastrelliera per bici elettriche e di una teca per defibrillatore automatico per far fronte ad eventuali emergenze e continuano a crescere gli appuntamenti natalizi sul nostro territorio ad esempio anche a Frontone ieri è tornata la magica atmosfera con i mercatini del castello di Babbo Natale inseriti all'interno della rete degli eventi del Natale che non ti aspetti davvero un bel segnale per il comune del Sindaco Tagnani dopo l'alluvione del 15 settembre scorso che ha colpito Frontone che è uno dei borghi fortificati più belli d'Italia facciamo un passo avanti a mercoledì sera alle 20 e 30 quando le porte dell'hotel Flaminio si apriranno per festeggiare i 50 anni dei gentlemen il club di Pesaro di calciatori over 40 fondato nel 1970 a causa della pandemia la cerimonia atteso due anni e per l'importante traguardo raggiunto verranno nell'occasione premiati tutti i soci, presidenti e giocatori che hanno contribuito a creare la storia di questa realtà del territorio realtà ancora attiva 365 giorni all'anno in cui i calciatori si riuniscono due volte alla settimana sul campo del Santa Veneranda per l'occasione le telecamere di Rossini TV saranno accese per riprendere i momenti salienti della serata che daranno vita poi a uno speciale TV che andrà in onda sul nostro canale 80 martedì 13 novembre alle ore 21 e 40 e sempre sulle canali 80 domani sera potrete invece seguire il nuovo programma targato Rossini TV aspettando il Natale con Roberta un format che per le festività terrà incollati sul divano specialmente i più piccoli come ci spiega la nostra Roberta Esperide curatrice e conduttrice del programma è un programma davvero che abbiamo fatto con il cuore come tutte le cose che ci piacciono che ci appassionano che ci rendono felici era giusto ovviamente pensare al Natale che è il periodo più bello magico e luminoso di tutto l'anno e ovviamente pensare anche ai bambini che sono in assoluto i protagonisti del Natale e da qui nasce questo programma assolutamente divertente spensierato semplice che ovviamente vi invito a seguire e sono convinta che piacerà anche ai più grandi canteremo leggeremo filastrocche ma soprattutto racconterò delle curiosità legate al Natale farò nelle vesti per la prima volta di Mamma Natale come aiutante ufficiale di Babbo Natale è stato davvero un piacere poter diciamo parlare ad un pubblico per me comunque nuovo che era quello dei bambini l'ho fatto davvero con semplicità e sperando che sia ben apprezzato andrà in onda dal 6 di dicembre ogni martedì e giovedì dalle 19 e come ogni lunedì concludiamo il nostro telegiornale con le notizie di sport parleremo della VL che decimata dagli infortuni ha perso di misura 30 parleremo tra gli altri anche della Vispesoro che è pronta a ripartire da un nuovo allenatore questa volta la partita punto a punto ha premiato gli avversari la VL cade a 30 79 a 75 in una trasferta nata male fin dal pre-gara per le inattese defizioni di Kravic per Borsita al Gomito e di Totè per influenza solo parzialmente compensate dal ritorno sul parquet di Capitano Delfino eppure la VL approccia bene la gara e si cala in una battaglia intensa che chiude avanti per tre quarti salvo subire la rimonta della Dolomiti Energia che gioisce dopo lunga rincorsa a Pesaro non bastano i 20 punti di Moretti e 18 di Abdurrahman per evitare la sconfitta nel calcio la Vispesoro 48 ore dopo l'esonero di Davide Sassarini è scesa in campo nello scontro salvezza di Imola con la soluzione protempore del vice Renzoni in panchina al Galli uno scialbo 0-0 in cui le due squadre non hanno nascosto i rispettivi stati di crisi per la Vis la classifica resta invariata Biancorossi un punto fuori dai play-out contrassegnati dalla stessa Imolese ora la Vis ripartirà da Oscar Brevi è infatti questione di dettagli l'ufficialità che vedrà sulla panchina biancorossa il 55enne milanese già tecnico di Fano, Renate, Olbia e Gianna Erminio in Serie D invece il Fano riparte dopo due sconfitte consecutive espugnando 2-1 Montegiorgio grazie alla doppietta di Broso che ribalta l'iniziale vantaggio di Tencorang nel calcio a 5 torna alla vittoria l'Ital Service Pesaro che nella lunghissima trasferta sarda di Sestu batte 4-3 il Monastir nonostante l'assenza per squalifica di De Oliveira al Flan, Canal, Pires e Tony Dandel firmano una vittoria rigenerante in vista della Supercoppa di sabato a Genzano contro l'Olympus Roma nella pallavolo serata no per la Megabox Vallefoglia che cade 3-0 sul campo piemontese della Fenera Chieri e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News ma come di consueto vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla nostra prima serata che come ogni lunedì comincia alle 21.20 con il check-up obiettivo salute il nostro appuntamento fisso d'inizio settimana in questo format che il nostro Antonio Astuti costruisce in collaborazione con Fisora di Medical Center puntata di questa sera è dedicata all'ernia al disco e alla sciatalgia con ospite la neurochirurga dottoressa Ilaria Barni come detto appuntamento alle 21.20 prima replica alle 23.15 e poi le tante repliche che vedete in grafica dal martedì alla domenica prima serata del lunedì che continua alle 21.40 con lo speciale dedicato alla inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 dell'Università di Urbino e poi l'informazione su Rossini TV che torna puntuale domattina alle 7.20 sempre in diretta come ogni mattina da lunedì al sabato Buongiorno Rossini è la rassegna stampa dei quotidiani locali della provincia che per quello che riguarda la giornata di domani martedì 6 dicembre sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi e ve lo abbiamo anticipato all'interno delle TG un altro nuovo programma parte sulle canali 80 di Rossini TV e comincia proprio domani alle 19 si chiama Aspettando il Natale con Roberta la nostra Roberta Esperide condurrà questo format specificatamente natalizio dedicato anche ai più piccoli appuntamento appunto domani alle 19 per un format che in questo periodo natalizio vi terrà compagnia tutti i giorni del martedì e del giovedì sempre alle 19 e poi con le repliche che vedete in grafica al mercoledì, al venerdì, alle 17 il sabato e la domenica alle 12 e alle 18.45 ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi